Eccoci ritornati alle ore 15 e 40 minuti circa, più o meno, insomma è una roba lunghissima, c'è anche la luna tra l'altro che ci guarda dall'alto, blue moon, you got me standing alone, e io sono invece con due belle ragazze che arrivano niente po' po' di meno che dal Brasile! Allora praticamente loro hanno vinto una competition con MTV Brasile e sono qui per vedere gli awards, hanno vinto due biglietti, ciao ragazze, come vi chiamate? Io sono Larissa, Larissa piacere, ciao! E tu invece che parli anche un po' di italiano? Parlo pochino italiano, pochino italiano, ecco! Io sono Giovanna, ciao Giovanna, benvenuti! E parte un enorme trenino in giro per la città di Roma, so, è la prima volta che siete a Roma ovviamente! Sì, sì, la prima volta! Vi piace per il momento? Moltissimo! Moltissimo, moltissimo! Eh, cosa volete vedere di Roma in particolare? No ragazzi, no! Voi non dovete vedere niente, sono loro che devono vedere le cose! Cioè, avete già visto il Colosseo o qualcosa di, non so, i fori? Domani, 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 insegnale un po' di italiano! Cos'hai qua? Cos'è? Un regalo, un regalo! Un regalo per me! E che cos'è esattamente? Così lo diciamo tutti! Un CD? Sì? Ah, un CD di Nando Reis che sarebbe un artista brasiliano però la versione Unplugged! Sì, sì! DMTV, fantastico, che meraviglia! E poi invece qua vedo dei dolcetti, cosa sono questi? Non lo so, in italiano! Non lo so, in italiano! Passoca! Passoca! Passoca, sì! C'è un brasiliano oltre al nostro junior? Ah, sei brasiliano tu, hai capito! Bene, ragazze, grazie mille! Tipico brasilero, tipico! Ah, tipico brasiliano, ho capito! Oh, domani sera sarà una serata meravigliosa! Non subirete il saudagi, sicuramente, perché sai, la tristezza! Divertitevi per tutti quanti, in rappresentanza dei brasiliani, ok? Grazie mille di tutto, non hai capito niente di quest'ultima cosa! Le nostre amiche brasiliane che ci hanno regalato anche un po' di dolce, in tutti i sensi! Allora, andiamo avanti con la classifica, siamo arrivati quasi alla vetta, questa classifica lunghissima di oggi, due ore di classifica e siamo arrivati alla posizione numero due, dove c'è Britney Spears! Grazie mille!